Mettila, metti quella a fare. Per favore, ho solo due minuti. Vuoi mettere quell'accidente di cassetta? Per favore, ho solo due minuti. Per favore, ho solo due minuti. Una ragazzetta stupida di scuola. Meno male, avevo paura che non mi credessi. Adesso il problema è suo. Se non trova qualcun altro a cui farla vedere entro una settimana, è morta. Le hai detto quello che succede o glielo lasci scoprire da sola? Jake? Dai, è finita, su. Jake? Non è divertente? Jake? Emily! 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 Emily, che diavolo hai combinato? L'ho messa, ma non l'ho guardata. L'ho messa, ma non l'ho guardata.